salve ragazzi salve a tutti allora calvo el canne in arabia per cercare sponsor e soldi e forse anche qualcosa in più un ingresso in società in quota di qualche di qualche esponente del mondo arabo per dare l'infa alla squadra ma nel frattempo si sta anche lavorando ragazzi sul prossimo allenatore i ragionamenti che sono stati fatti ragazzi sono presto detti hanno appurato che nel triennio allegri nessun calciatore di quelli acquistati ha avuto un aumento di valore quindi i ragionamenti si stanno facendo proprio sull'utilità di allegri in questi tre anni anche a livello di valorizzazione della rosa quindi il discorso è questo qua se tu devi pagare l'ultimo anno di allegri e allontanarlo e prendere un allenatore che ti valorizza la rosa quindi i cambiasui chiesa i vlaovic lo stesso bremer e altri giocatori che con allegri hanno perso di valore forse bremer no perché bremer è un fatto a sé ma vlaovic non costa più i 90 milioni pagati chiesa non vale più i 60 milioni pagati cambiasso non è aumentato di valore locatelli è sceso sotto i 20 milioni dei 40 pagati e compagnia cantante quasi tutti ken non vale più i 28 milioni pagati quindi stanno facendo stanno ragionando su un allenatore che deve valorizzare la rosa quindi i giocatori devono essere valorizzati perché non puoi cederli tutti quindi quelli giovani devi tentare di trovare un allenatore che li valorizzi e su in questa ottica ragazzi anche antonio conte uno che valorizza la rosa ricordatevi che antonio conte ha vinto scudetti con vucinic con pepe con estigarribia con motta con gente veramente di basso profilo perché conte uno che tira il meglio dai calciatori lukaku è stato stravenduto dall'inter a prezzo folle al celsi perché con conte hai performato comunque ha avuto un rendimento oltre le sue capacità e quindi anche conte sarebbe un allenatore di questo genere e siccome adesso la juventus i conti se li devono fare stanno tentando di capire quanto è su chi puntare e per quanto tempo quindi anche la voce di conte che mi è arrivata due giorni fa è molto credibile ecco obiettivo della juventus avere un allenatore bravo che fa giocare bene la squadra ma che valorizzi la rosa attuale verranno inseriti sicuramente 45 nomi ma i giocatori attuali vanno valorizzati la juventus non può perdere tutto il capitale della rosa solo perché ha avuto per tre anni un allenatore che non ha saputo valorizzare nessuno ripeto forse solo bremer ha aumentato di valore di quelli che abbiamo in rosa tutto il resto non è riuscito a fare nulla allegri da questo punto di vista e quindi ragazzi sì i nomi saranno quelli io di quelli che possono valorizzare una rosa che costano magari qualcosa in più ci metto anche club però bisogna vedere se club ha voglia di fare un'esperienza in un campionato tra parentesi minore perché l'italia in questo momento un campionato minore vi lascio un abbraccio ragazzi si gode ancora per l'inter perché si sta ancora godendo però io appena ho qualche notiziola ve la do sempre molto volentieri un abbraccio a tutti ragazzi e quindi ripeto sempre più certo che allegri non sarà il prossimo allenatore della juventus verrà sollevato a fine stagione forza juve iscrizione ai canali ragazzi